La 18UP ha un senso perché noi partiamo da una storia. La storia è Bataclan, attentato terroristico islamico a un teatro. Perché vanno a colpire i teatri? La musica è l'espressione della nostra identità, come lo è la cultura, come lo è una mostra, come lo è il teatro, come lo è una biblioteca. Uccidere la musica, imporre il silenzio, è rendere le persone incapaci di vivere con entusiasmo e con la bellezza. Per rispondere a questa crisi che colpisce l'identità di quello che noi siamo, va benissimo, ci siamo detti. Giocare la carta del lotta all'estremismo, della presenza di forze e dell'ordine, tutte le cose che sapete, ma ci siamo anche detti, vogliamo a tutti i costi avere un segno della nostra risposta identitaria e culturale, cioè un euro in sicurezza e un euro in cultura.